Grazie a tutti. Grazie, grazie. Scusate, vi posso disturbare solo un minuto? Ma certo. Ok, va bene, grazie tanto. Allora, scusate il disturbo, eh? Prego, prego. Scusate, grazie, ciao. Questo è tuo. Grazie. Scusate ancora per il disturbo, eh? Prego, prego. Ciao, grazie. Ciao, dicevamo? Dico, basta quattro lepanti e dei leoni. Scusate, grazie. 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 Grazie a tutti. Adieu. 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 Te vuoi muovere che c'è parte il treno? Ah sì, scusa, mi ero bambolata a guardar poste. Le mannacce a Parigi, dice che è bella. Sta a perdere tempo, sta a perdere. Bardozzi? De Marchis! Liceo Virgilio? No, non ci posso credere! Ma quant'è che era? Liceo Virgilio, no? Sì! Mamma mia! Non so, più di dieci anni! Ma di più per forza, ma è incredibile! Ma lo sai che sei proprio in forma? Ma pure Devo! Ma è sempre bella, sempre! Questa cosa è assurda che ti incontri! Mamma mia! Veramente! Cosa fai qua? Eh? No, dico, cosa fai qua? Eh, qua faccio teatro. Teatro? Teatro? Sì, no, faccio l'attrice. Ma non ci sono teatri qua? No, qua no, infatti no, qua. È che giù facciamo le prove. E allora io mi volevo prendere un caffè e sono... Ma non ci sono bar qua? Appunto, dicevo, non ci stanno bar. E camminavo giù, mi sa che giù. E te? Cosa? No, dico, che fai tu qui, scusa? Ah no, sto aspettando degli amici che andiamo a una festa, una festa di carnevale, così siamo un po'... Carnevale non è il periodo di carnevale? No, dico, festa nel senso carnevale perché è una festa in maschera. Ah, ma qui? No, cioè andiamo dai nostri amici, ci troviamo tutti qua, poi io non so neanche dove sono, sinceramente. Ah, cioè ti passano a prendere qui? Sì, ti passano a prendere, andiamo. Ah, no, pure a me, perché io ho detto che andavo a prendere il caffè. Ma senti, ma tu però eri adattissima a far l'attrice. Vero? Ma fin da proprio da... Dai vincoli, ti ricordi? No, eri sempre proprio sui banchi, molto... Insomma, sì, sì, sì. Come mai sei... T'ho detto, io faccio spettacoli al... Dai, ti vengo a vedere. Sì, sì, dei dratti. Oh, quanto prendi? 70 euro. E te? Io 50. Vabbè, salite tutte e due, va. E così fai l'attrice. Sì, sì. La mia è proprio una passione. Brava, brava. Fin da piccola. E te invece fai alle feste? Sì, ma guarda. Sì, ma guarda. Voi vorreste? Ciao. Benvenuto Carmine. Sì. Accomodati. Sì. Accomodati costì sul divano. Costì, sì. Ma comodo costì. Ti preparo un cocktail. Vuoi? Guarda, veramente vado un po' di fretta perché... Sono passato giusto perché ti ho sentito strano al telefono. Allora ho pensato, fammi andare a sentire che combina Oreste. Ti preparo un cocktail. Vuoi? E va bene. Ti preparo un cocktail. Così mi hai sentito strano al telefono. Non è proprio strano, eri cupo, un po' cupo. Eh, la voce è cupa, ce la vedi, sì. Cupa? Cupo. Più cupo che strano. Quanto più cupo? Che strano. Guarda, volendo fare una percentuale, diciamo 70% cupo e 30% strano. Ecco il cocktail. Tienine. Bevine. Suggine. Sì, lo sugge, lo sugge, lo bevo insomma, bevo. Ah! Dimenticavo. Tieni. L'ho preso apposta per te. Questo? Sì. È il tuo? È il mio? Grazie. Prego. Posalo qui. Sì. Dentro il vaso. Sta bene nel vaso, eh? Se mai lo prendo dopo quando vado via. Quando? Dico quando vado via. No. No. Sta bene qui. Ah. Nel suo vaso. Per mio? Sì. Per mio, infatti. Così mi avresti trovato cupo. Sì. E cosa avresti intravisto di così cupo in me? La voce, la strana. Che tu sei sempre solare, tutto contento della... Della tua famiglia, appunto, una bella famiglia, una bella casa. Un buon lavoro. Una bella moglie. Ah, bella! Sicché tu trovi che Marta sia bella. Marta è molto bella, elegante, una signora. Una signora, giusto? Essendo sposata con me lo è sì, una signora. Almeno legalmente, ma lo è. Ma scusa, mi dici esattamente? Sì. Cominciamo dal principio, vuoi? Eh, dal principio, sì. Carne. Tu hai mai pensato a me come a un possibile assassino? Ma che dici? No. No, ovviamente no. No, sono troppo posato, troppo calmo, troppo rilassato. Sto oggi un po' cupo, ero sempre... E neanche per gelosia. Gelosia? Perché gelosia? Lo hai detto tu. Ho una bella moglie. Bella? È un tipo, pure mora. Perché mora non è bello? Beh, solitamente quando si dice bella si intende alta, bionda. Marta è alta. Eh, ma è mora. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Anzi no, indietro. Meglio indietro. Indietro. Fino a quel giorno in cui conobbi un ragazzo. Un ragazzo brillante, simpatico, estroverso. Un ragazzo sempre con la battuta pronta, pieno di verve e brio. Ero così contento di averlo conosciuto perché sentivo di potermi ci confidare. Beh, è una bella cosa. Non mi interrompere. Marta lo conobbe e ne fu entusiasta quanto me. O forse sarebbe meglio dire più di me. Vabbè dai, sai come fanno le mogli certe volte, no? Magari uno gli sta un sacco antipatico e loro fanno credere il contrario. Le conosco bene le mogli. Bene? No, l'ho letto. No, Marta era letteralmente entusiasta di questo ragazzo. Come lui del resto, lo era di Marta. Come è bella, soleva ripetere. È bellissima. Dai, forse Marta non è bellissima. Marta innanzitutto ha le tette che so troppo sodio. Cioè, c'è la proprio grande... Poi è il vitino, gambe lunghe, caviglia fine, mora, occhi verdi. Non è in granché, dai, su. A lui piaceva. So gusti. Piaceva così tanto che da quel giorno ha cominciato a venire spesso a casa mia. Molto spesso. Spessissimo. Anche quando io non c'ero. Magari pensava che c'eri e invece non c'eri, ecco. Io pensavo di aver trovato un amico. E invece avevo snidato una serbe. E questo mi ha fatto pensare. E cosa ho pensato? Che hai pensato? Ho pensato se era giusto o no. Ed era giusto? No. No. Non lo era. Non era giusto. E ho pensato che non me lo meritavo. Meritavi? E allora, cosa ho fatto? Che hai fatto? Ho invitato di nuovo questo mio amico a casa. E l'ho fatto accomodare costi sul divano. Dopodiché, gli ho preparato un cocktail. Sì, un cotto a base di cianuro. E ho ancora davanti agli occhi quell'espressione. E sento ancora nelle orecchie le sue grida. È successo due anni fa. E il rimorso mi... Che stai facendo? So scivolato. Scivolato sul tappeto. È persiano questo? Credo. È perché sono scivolosi i tappeti persiani. Proprio... Sono belli, eh. Però si scivola che... Non è bella Marta, no. E insomma... Ho pensato bene di raccontartene. Hai fatto benissimo. Io adesso ti saluto. Ciao bello, grazie di tutto. Veramente, ho stato benissimo. Devo andare che devo prima... Cioè, che... C'ho il dentista sul fuoco. Devo andare al dentista e poi c'ho anche una cosa a casa che ho lasciato sul fuoco. Quindi vabbè. Ciao bello, grazie, eh. E non vuoi sapere perché io abbia deciso di raccontartene? Perché siamo amici, no? Perché io so che... Che? Perché io so che tu non lo racconterai a nessuno. Ah, no, 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 per carità. Proprio muto come una tomba. Proprio amici, siamo amici, quindi... Io sono sicurissimo che tu non lo racconterai mai a nessuno. Ma guarda, ci puoi contare. Proprio una cosa non può succedere. Siamo troppo amici, figurati. Siamo amici e quindi non lo... Carmine. Sì. Che fine ha fatto quel tuo accendino zippo argentato? Quello con le tue iniziali incise sopra. Quello che sempre rechiteco. Smarrito? Forse. L'hai trovato tu? Può darsi. Forse. Sì. Senti, Oreste, dopo quanto fa effetto il cianuro? Dopo circa due minuti. Ti si annebbia la vista. Ti tremano le gambe. Hai una fitta allo stomaco. E te ne vai all'altro mondo. Stolto, l'hai dimenticato nel mio studio. Mi spieghi cosa stai facendo? Fa stretching. Qui in casa mia? Sì. Perché dove si fa stretching? In palestra, credo. Ah, in palestra. Ah, in palestra. Ci stanno proprio le palestre per fare stretching. Tu pensi che... Una vita che lo faccio in giro io. Invece proprio sulle palestre che vado lì, paghi e fai stretching. Grazie per la dritta. Adesso vado e mi scrivo proprio. Ho visto una palestra mentre venivo qui. Proprio vado e mi scrivo subito. Grazie, eh. Cristo no. Carmine! 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 Perdonami Carmine, io ti ho avvelenato. Ti ho preparato il cocktail Martini con la grappa anziché col gin. Potrai mai perdonarmi? Oreste? Sì? Vaffanculo! Stia calma, non si preoccupi. Non si muova, non si muova. Non si muova. Non si muova. Pronto? Salve. Dovete mandare un'ambulanza presto. C'è stato un ferito, un incidente in motorino. Sì, via Enzo De Vecchis. Presto. Enzo De Vecchis. De Vecchis. V, come i vecchi, vecchi, con la S però di Samona, sì. Enzo De Vecchis. E Enzo, non Renzo, Enzo. E come Empoli, N come Nudo, Z come Zorro, O come Otrato. Enzo De Vecchis, sì. De Vecchis. Vecchis. V, la V di Vespa. Non Vespa, 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 come Allegra, Zilla. Come la Vespa Teresa. Teresa, Teresa. T di Taralluccio. E come Empoli. E come Empoli, sì. Presto, presto, è ferito gravemente. Dovete... Ferito. Ferito. F come Feromone. E come Edonismo. Edonismo. E come Empoli. Di come Druido. Druido. Domodossola. Come Domodossola, grazie. No, dicevo a lui. Presto, presto. Dovetevi andare a un'ambulanza. Qui è Venzo De Vecchis. Che sta molto male. No, niente. No, non importa. È morto. È morto. 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 M come Modena. O come Otranto. R come Roma. Allora, una cosa molto importante. Che quando il cliente finisce di mangiare e poggia le posate, tu devi subito levare il piatto. È molto importante. Allora, cosa devi fare? Quando il cliente finisce di mangiare, io devo togliere il piatto. E quando? Quando poggia le posate. Bene. È molto importante. Era tanto tempo che desideravo averti il pranzo. Sì, anch'io era tanto tempo che aspettavo che tu me lo chiedessi. No, no. No, non abbiamo ancora terminato. No. Ho visto le posate. Sì, ma era per bere. Ah. Scusate. No, no, niente. Sì, era proprio tanto tempo che desideravo averti a pranzo un giorno. Sì, anch'io. Era proprio tanto tempo che aspettavo che tu me lo chiedessi. Sì. Oh. Sì, anch'io era tanto tempo che aspettavo che tu me lo chiedessi. E insomma mi dicevi che era tanto tempo che desideravo averti a pranzo. Ah, sì. 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 Oh, il cuore. Il cuore. Oh, sì, ho malissimo, respiro. Che facciamo? Oh, no, non sto malissimo. Vuole un bicchiere d'acqua? No, non lo so. Ah, sto meglio, sto meglio. Oh, sto meglio. No, non ci posso credere. Cosa? Che tu sia qui. Perché è proprio tanto tempo che desideravo averti a pranzo. Ah. Forse non dovrei dirtelo, lo so. No, no, fatto bene. Salve. Si mangia bene qui? Sì. Sì, perché ho degli amici che mi hanno mandato in una scoperta per capire. Bene, si mangia bene allora? Si mangia bene. Allora vado fuori e glielo... Oh, adesso dovresti rimasti agganciati i piatti alla lavanda. Quindi si mangia bene? Sì. Allora, glielo dico, grazie. Sono proprio felice perché era davvero tanto che desideravo riuscire a pranzo con te. No, scusate davvero, è che rischio di essere licenziato. Ve li potete dare adesso? Dagli, arriva. Grazie. Grazie. Ma figurati. Ma non ti preoccupare assolutamente. E se non puoi, non puoi. Dai, vorrei dire che usciremo un'altra sera. Non mancherà occasione, vedrai. D'accordo? Va bene, ti saluto, ciao. Ciao, sì. Peccato. Questa sera non mi andava proprio di rimanere da solo. Dottore? Sì? Questa è la lista dei porfidi da imballaggio che mi aveva chiesto. Grazie. Poi, se non c'è nient'altro da fare, io avrei finito, Andrei. Sì, 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 vada, vada. È un momento, si viene a squarciolupi. Sì. Mi scusi, ma... Mi stavo chiedendo... E con lei non ha... Non ha mai pensato di... Di togliersi gli occhiali e... E di sciogliersi i capelli. Mi scusi, è che ho lavorato molto intensamente quest'oggi e... Non so cosa mi si è preso. Mi scusi, può andare adesso. I suoi occhiali, ecco. Vada. Vada pure. Vada. Vada? Vada. e comprerò una cosa una cosa bella che stai a fare? c'è la telecamera la telecamera? la telecamera ma bene lavorare invece di pensare la telecamera pensare alla telecamera invece di... stiamo lavorando pensa a scop... pensa a ramazzare invece di pensare alla telecamera stiamo qui per lavorare noi no per fare i cosi Nome? Giordano Bragaglia anni? 42 professione? Arture cosa ha portato? non mi chiede le esperienze teatrali ma è vero mi scusi esperienze teatrali? due anni con la compagnia del mortaio di pesca seroli e con la commedia le prime muffe del melograno in autunno di ferruccio canarini cosa ha portato? e le esperienze cinematografiche? ha ragione mi scusi tanto esperienze cinematografiche? no vabbè non importa grazie può andare oggi non se ne esce non se ne esce avanti un altro nome? Giordano Bragaglia anni? 42 professione? arture buongiorno tu sei? prestigiatore no il nome intendo ah Magic Sebastian il nome vero eh questo Magic Sebastian il nome anagrafico il nome vero tuo Magic Sebastian e qual è il nome d'arte? Luigi De Santi fuori grazie nome eh Nicolò cosa fai Nicolò? io suono le tastiere e canto bene cosa ci fai ascoltare? io dico che suono le tastiere e canto non è che sia proprio un cantante è proprio cantantone va bene va bene cosa ci fai ascoltare? perché uno dice suono le tastiere e canto allora uno si immagina proprio un cantante tipo Sanremo va bene insomma diciamo che interpreti ecco interpreto è perfetto cosa ci fai sentire? New York New York ah bene ecco proprio New York New York perché uno dice suono le tastiere e canto e dice allora immagina Frank Sinatra questo canta proprio invece abbiamo capito devi fare spazio si sta spreading the news I'm leaving today scusa scusa perché tu hai detto suono le tastiere e canto però l'ho detto non è che sia questo cantante proprio ma lascia stare cantare lascia stare cantare le tastiere negato tastiere zero mai suonate in vita mia fuori buongiorno buongiorno nome? Gianni Palumbo che fa prende in giro? perché? perché usa questa voce? è la mia voce lei che mestiere fa? l'attore che voce dovrei usare scusi? un'altra diversa tipo io sono Gianni Palumbo io sono Gianni Palumbo che fa prende in giro? ma vaffanculo buongiorno buongiorno nome? come lui Celletti non ho capito scusi come lui Celletti come lui? come lui e che nome è? è il mio nome nome d'arte? no all'anagrafe proprio come lui e da dove nasce questo nome? beh è un nome che mi ha messo mio padre che lui è sempre stato un grande appassionato dei Beatles e in particolare di Paul McCartney quindi quando sono nato ho deciso di chiamarmi come lui fuori allora ragazzi un minuto soltanto eh? ok va bene a dopo a dopo calmati oh lo so è sempre l'ansia da bruino è sempre così ma dai lo so che mi emoziono troppo io con regista sbaglio hai visto prima no? l'abbiamo fatta insieme no? l'ho fatta bene no? poi appena arriva il regista la faccio con lui sbaglio stavolta l'ha battuta devi dire ho capito mi emoziono con regista proviamola la proviamo un'altra volta io la dico senti Paolo Claudio ancora tu maledetto ma che cosa fai? è stato Franco ha telefonato a Sandra e da lì vado avanti io quindi che ci vuole? quindi tu dici senti Paolo a Paolo io faccio Claudio ancora tu maledetto ok ok fatemela vedere dai sì ecco senti Paolo Claudio bello come stai? no no cavo ditto gli wasp i i Sì, sì. 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 Non c'è stato bisogno perché si è suicidato. No, no, un momento. Come sarebbe a dire? Niente soldi. È morto, no? No, un momento. Il mio lavoro consisteva nel venire qui e farlo fuori. Allora, io fino a qui sono... Cioè, metà del lavoro l'ho fatto, quindi metà dei soldi. Metà dei soldi mi spettano di diritto perché... mi lasci, mi lasci, mi lasci spiegare. voglio stare, sveglio, 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 voglio morire. No, vivere, perché vivere è bello. La vita è brutta. No, la vita è bella. È tutto brutto. No, è tutto bello. Nella vita ci sono tante cose meravigliose. Nella vita ci sono i coltelli, i pugnali, i lacci di seta, le pistole, i soldi, che altro c'è? La salute! No, la salute no. Come no? Perché no? Guarda, sono gravemente malato. Scusa, tu non ti chiami Dickinson? Sì. E qui c'è scritto Palouaski, Vladimir Palouaski. E chi è? Che ne so, se non lo sai tu. Quindi non sono le mie lastre queste? Evidentemente no. Quindi non devo morire? Sì. Perché sì? Il veleno. È vero. Ho preso il veleno, è vero. Bisogna fare qualcosa. Bisogna fare... Vomitare, devi vomitare. Sì, perché se vomiti rigetti anche il veleno. Devo vomitare. Devo vomitare, sì. Vomita, vomita. Vomita, vomita. Esatto, vomitiamo. Ma che ho visto, scusa? Io? Eh. Sono un killer. Un killer? Eh. Che ci fai qui? Sono venuto a farti fuori. Farmi fuori, perché? Perché mi pagano. C'è un mandante che mi dà dei soldi perché io ti faccia fuori. Ma perché vuoi che vomiti? Perché se muori da sole non ti uccido io. Il mio mandante non mi dà un soldo. Ma che ne frega lui che non muoio io? Beh. È quello che ho detto anch'io. Prima gli ho telefonato. Dico, è morto. E si è suicidato. Oh no, no. Ma che ne frega se si è morto o si è uccida? Cioè, è uguale. Cioè, lui è morto con me. Ma che ne frega a me, scusa? Ma che ne frega a me? Avanti, vomita! Eh, io non vomito. Non vomito. Allora, muori da sole. Muori avvelenato. Non sei mai morto avvelenato, eh? Non lo sai quello che succede? Che succede? Eh? Che ti vengono dei crampi orribili. Cominci a torcerti tutto quanto in preda dei crampi. E ti escono gli orvi dagli occhi. Tutta una labile che esce in una bava puruletta. Ma che schifo! Eh. E allora vomita, dai. Va bene, vomita. Ho deciso. Va bene, vomita, vomita. Allora vado, eh? Vado a vomitare. Dove? Qua sotto al vomitatoio condominiale. Quello che sta proprio qui sotto. Quindi scendo giù, vado e vomito e poi torno su. Va. C'è il vomitoio. No. Tu vomiti qui. No. No, ma va tu, è fatto apposta. Tu vomiti qui. E lo paghiamo un sacco di soldi tutto il condominio. Vomita. E ci vengono a vomitare tutta la zona. Avanti, vomita. Io non vomito, non vomito. Cosa è quello? Liquirizia. Liquirizia? Sì, quando sono nervoso sgranocchio sempre la liquirizia perché mi rilassa. Mi fa vomitare la liquirizia. No. Un pezzetto. No. No, no. Prendi un pezzetto. No, 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 no. Dai, scendocchiene un po'. No, non la prendo. Dai, perché le brucio è tuo. No, no. Dai, un pezzettino di liquirizia. Che cosa ti costa? No, no. È buona. È buona. Pensa, tu ne mangi un po'. Eh. Vomiti, io ti uccido. E poi muori e ti giuro che con parte del ricavato io ti organizzo un favoloso funerale proprio bello con la carrozza nera e i cavalli bianchi con i pennacchi. Ma che mi frega dei pennacchi? Dai, ti prego. No. Un pezzettino. No. Un pezzettino di liquirizia perché le brucio è tuo. Dai, Oscarino, ti prego. Oscarino. 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 Eh. Chi è Oscarino? Tu. È il diminutivo Oscar Oscarino. Mi chiamo Frank. Frank Dickinson. Frank? Eh. E chi è Oscar Dickinson? Mi cugino. Mi cugino mi ha lasciato l'appartamento e lui è fuori in vacanza e mi ha detto perché non ci sei tu un po'. E quindi sto qui. Sono a sfide sua. Ma quindi non sei Oscar Dickinson? No. E allora non sei la persona che devo uccidere? No. In tal caso toglierò il disturbo. Quindi non devo morire? Sì. No. Perché? Il veleno. È vero, il veleno, sì. È il veleno. Dammi la liquirizia, dai. Dai, per favore, dai. Devo andare. No, un pezzettino. No, un pezzettino. Non si lega a nessuno un po' di liquirizia, dai. Mi dispiace. Per favore. Mi dispiace, non è che la liquirizia era troppo così per strada, le devo andare a comprare, eh. Ma dai, un pezzettino di liquirizia, veramente, solo... È troppo tardi. Ma che è tardi? Ma che c'è un orario per la liquirizia? Ma che è te? Dai, su un pezzettino. Dai, per favore, dai. No, mi dispiace. Ti prego, guarda, ti faccio vedere. Guarda cosa ho ingerito. Guarda, leggi. Velenox. Questo è un veleno potentissimo. Muori tra gli spasmi in breve tempo. Guarda, guarda. Cosa hai ingerito tu? Velenox. Velenox. Eh. Leggi bene. Mentine? Eh. Hai ingerito un tubetto di mentine. Che c'è? Un tubetto simile a quello di... Un intero tubetto di mentine. E quindi non devo morire più? No. Ma è fantastico. Ma che bello. Che notizia fantastica. Accomodati, accomodati pure, dai. Ma io devo andare. Ma no, ma perché? Da, festeggiamo, dai. Ma devo finire dei lavori. Ma stassiamo qui un po' insieme. Posso offrirti qualcosa? Non dovrei inserire. Ma su che sono brandy? Un whisky? Un whisky. Un whisky. Non ce l'ho, non ce l'ho. Non ce l'ho. Eh, vabbè, allora il brandy. Non ce l'ho nemmeno il brandy. Il cognac. Niemeno. Lo sherry. Fino degli alcolici. Che te posso offrire? Che te posso offrire? Vino. Niente, non ce l'ho. Alcolici zero. Aranciata. Che te posso offrire? Aranciata. Ecco, aranciata, Coca-Cola, non ce l'ho. Non ce l'ho. Che te posso offrire? Una limonata. Nemmeno. Che te posso offrire? Del pompelimo. Niente. Una spermuta. Niente, non ho niente. Da bere proprio niente. Che te posso offrire? Dell'acqua. Acqua non è potabile. Quindi il frigo non ce l'ho. Quindi che te posso offrire? La cosa da mangiare? Uno snack? Un toast? Un sandwich? Niente, non ce l'ho. Un tramezzino? Niente, non ce l'ho a soffrire. Un rustico? Una pizzetta? Non ce l'ho proprio niente. Che te posso offrire? Ma anche una cosa è dolce, un biscotto? Niente, non ce l'ho a soffrire. Non ce l'ho a soffrire. Non ce l'ho a soffrire. Salatini, pistacchi, mandorle, cucina vuota. Penoli, niente di tutto questo. Che te posso offrire? E un cioccolatino? Una caramella? Una mentina? Una mentina? Ma facciamo una mentina. Non è un gran festeggiamento? Non ce l'ho meglio che niente. Ecco qua. Le prendo un po' pure io. Sono piccolissime però. No, pensavo. Non avevi detto che avevi ingerito già tutte le mentine? Sì. E capirai. E quando la trovi? Ti dico che si trova. Sì, vabbè. Senti, rinunciamo Claudio. Ah, ti dico che si vede. La vedo dura. Ti dico che si vede. Te lo sto dicendo. Eccola. Ah. Hai visto? Uomo di poca fede. Meno male, va. Diamo una bella pettinatina ora. Ma che cosa fa? Ma non faccia pazzie. Si butti. No, la vita è bella. No, la vita è una merda, mi creda. Si butti. No, la vita è bella. Una moglie che ha dei figli bellissimi. No, no, non pensi a loro. La prego, cerchi di non pensare a loro. E si butti. Sono ricco, non mi manca niente. Ma cosa sono i soldi di fronte alla vita che ero sfacero? Mi di a retta, si butti. Io rientro. No, 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 aspetti, aspetti, facciamo una cosa, facciamo una cosa. Io adesso le do la mia mano, piano, lei mi dà la sua e io la spingo di sotto. No, 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 rientro, rientro. Aspetti, aspetti, ma ci sarà un motivo che è uno, un motivo per cui valga la pena morire, no? No, no, la vita è bella. Ma non è vero, la vita è brutta. Allora, sa che le dico? Rientri. Sì, rientro, io rientro, sì, rientro. Vediamo se ne ha il coraggio. Ah, pensa che non è il coraggio, eh? No, secondo me lei non ha il coraggio di rientrare. Lei lo dice soltanto, ma non ne ha il coraggio. Ora le faccio vedere come rientro, allora. No, no, lei non vuole rientrare. Lei, lei, lei vuole morire, almeno quanto io voglio che lei muoia. Ah, dice? E adesso le faccio vedere come rientro. No, aspetti, allora, aspetti, un attimo, un attimo solo. Aspetti che racconti una storia, la storia di un mio amico, Ernesto. È una storia vera, mi ascolti. Io avevo un amico che diceva di amare molto sua moglie e diceva che lei lo amava moltissimo. Si conoscevano da vent'anni e stavano sempre insieme, mattina, pomeriggio e sera, sempre insieme. Ah, lo vede che la vita è bella? No, aspetti, non è finita. Stavano sempre insieme, mattina, pomeriggio, sera e notte, tranne due ore. Due ore al giorno in cui lei diceva di andare in palestra. E invece no, lei non andava in palestra. Lei in quelle due ore, per vent'anni, sistematicamente l'ha tradito con chiunque. Non è vero, non è vero. È vero, è vero. Non è vero. Lo tradiva con chiunque. Non è vero. Con chiunque in quelle due ore. Mi guardi, mi guardi. Non è vero. Guardi, guardi me, guardi me. Guardi me, si è concettato. Lo tradiva in quelle due ore. E lui l'ha scoperto e ha preso la corda e si è impiccato. Pausa, eh? Eh sì, mi stavo proprio addormentando. Certo, una bella segretta ci stava proprio adesso, eh? Eh. Tu quant'è che hai smesso? Il 12 aprile fanno due anni, due anni esatti. Ma complimenti, eh? Io un mese. Un mese? Mmh. Quindi ancora... Ma sai che c'è? Mi manca giusto in certi momenti della giornata, devo dirti la verità, eh? Non sempre, tipo, che ne so, dopo cena, dopo pranzo, i momenti conviviali con gli amici, lì un po' mi manca. Infatti pure a me. Mi manca il caffè dopo pranzo, quella che mi manca di più. Che lo dici? Poi sì, un whisky. Ma quando fumo a qualcuno vicino? Eh, gliene voglia. Eh, gliene è dura. Però guarda, mano a mano... Un certo dei due anni. No, ma poi comunque innegabilmente ti senti meglio. Mmh. No, ma respiri meglio, lo senti, sei più attivo, più energico. Come no? Poi arriva il momento in cui dici, basta. Ah, infatti. Ah. Quasi le quattro. Già le quattro? Eh. Ti ricordi quando eravamo ragazzini, eh? Eh, questa... Alle quattro... Mi scattava... L'ora della pippetta. Ciao. Ciao. Papà, per favore. Che cosa? No, 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 guarda, non cominciare, per favore. È tutto il giorno che siamo fuori. Siamo venute in calcina, ma stasera. Ve lo chiedo l'ultima volta e poi ve lo giuro. Non ve lo chiedo più, per favore. È tardi, è tardi, dobbiamo andare a dormire. Sì, ma poi non si può fare sempre le stesse cose, dai. Per cortesia. Ma dai, come... Ma non me ne ho promesso. Beh, questo... Vabbè, dai, allora, l'ultima volta e poi per questo mese siamo a posto, però, eh. L'ultima volta, va bene? L'ultima volta, va bene. Va bene. A Pinocchi! Ignoranti, cafoni, cafoni! Pronti, ti tiro una scarpa! Ehi, buongiorno. Buongiorno, signora, vedi qua. Salve. Vorrei due pezzi di pollo, grazie. Non ho capito, scusi. Dico, vorrei due pezzi di pollo, grazie. Ma credo che ci sia un equivoco, perché qui siamo in una merceria. Se me li tagli anche i sottili, eh, per favore. Perché, sai, io e mia sorella abbiamo un po' di difficoltà nel masticare, quindi... Signora, dicevo, questa è una merceria. Eh. Non è una merceria, non è una macelleria. Sì. Cioè, noi vendiamo sigarette, rocchetti, bottoni, tagli di stoffa, non abbiamo. Capisco. Senta, ma è fresca la carne? Signora, io le ripeto. Noi non vendiamo di queste cose, noi vendiamo roba da merceria, appunto. Senta, giovanotto. Senta, le rocchetti. Senta, ti diamo questi due pezzi di pollo. Due etti e dieci, li lascio? Li lasci. Quanti? Cinque euro. Capito? Vendiamo reggiseni, slips, spilli, nastri, aghi. Lei dice che è fresca, eh. Quindi, prossima volta, deve andare in una macelleria, capito? Va bene, grazie. Prego, se le serve poi un tagli di stoffa, così viene da noi. Grazie. D'accordo? Arrivederci. Arrivederci. Facciamo domani, allora. Ma poi va bene, basta non troppo presto, magari. Non ci posso credere. No, scusa, ti richiamo, scusa, ti richiamo. No. Virginia. Lillo. Virginia, ma... Ma quant'è che non ti vedo? Che piacere, è una vita che non ci vediamo. Ma come sono contenta, come stai? Ma ti trovo benissimo, ti trovo. Grazie, grazie, anche tu stai benissimo. Grazie, Virginia. Mamma mia, Lillo, ma è tantissimo che non ci vediamo. Eh sì, ha più di due anni. Più di due anni, sicuro, sicuro. Senti, ma che convivi, dimmi, dimmi. E niente, mi sono sposata. No. Sì, la conosciuta in un villaggio turistico. Ma dai. E tu? Sempre con Luisa? Sì, sì, io convivo con lei. Ma l'hai sposata? Ma no. Ancora no! No, ma dai, noi stiamo bene così, conviviamo. Eh, va bene, è un bel furbo. Insomma, stai benissimo. Tutto ok, tutto ok. Senti, che fai? Vai di fretta e hai tempo per una scopata? Guarda, e dovrebbe arrivare il mio marito fra pochissimo, perché volevamo andare al cinema, però... Però guarda, là oggi c'è un bar. Vediamo se è libero il bagno, magari facciamo una sveltina, che dici? Eh, perché no, perché no. Oh, ti piace sempre le scopare? Sì, sì, sono proprio appassionato, sì. Mannaggia, non si è cambiato per niente, mi fa piacere. Sì, è un mio amico e... Lui è... Lui è Claudio, mio marito. È tuo marito, sì. È tuo marito, complimenti, grazie. Eh sì, niente, parlavamo di scopate e quindi... Eh, te non parli d'altro. Eh, le faccio pure però, parlo soltanto, dai. Eh, no, infatti, non si pensava di fare una sveltina qua in... Nel bar, soprattutto... Nella toaletta del bar, però... Non è che perdiamo il cinema, che dici? Eh sì. Eh no, no, allora no, allora no, cioè non voglio mettervi difficoltà. Allora so, però ormai ci avevo fatto la bocca. No, ragazzi, però se ci avete un altro... Ma noi possiamo scopare un altro giorno, eh, non è che... No, ma... Se ci andassimo al secondo spettacolo, vorreste farvi la scopata adesso. Ho capito, ma noi stiamo lì a scopare tutto il fai, mi dispiace. Ma magari vi avete pianificato tutto. Ma stai in macchina, vi faccio una pipa in macchina. Ma no, no, dai, non lasciamo perdere, no. Non ce la faccio, non so la faccio alcuna. Ho un'idea io migliore, un'idea io migliore. Facciamo così, andiamo tutti a casa mia. Eh? Lui si sarà contentissima di conoscere tuo marito, perché lei adora gli uomini alti. E passiamo la serata da me, e dato il cinema, il cinema può aspettare, no? Dai, che dici, ti va, tesoro? Eh? Stasera? Stasera? Scopata e... Domani facciamo la pizza al cinema? Ok. Ok. Va bene. Andiamo, tesoro. D'accordo. Eccoci qua, questo è il salottino. Carino. Prego, accomodatemi pure, dai. Grazie. Luisa? Un momento che la chiamo, eh? Sì. E niente, sta scopando con l'idraulico. Ah, mannaggia, volevo presentarle Claudio. Eh, glielo presentiamo? Che problema c'è? Vieni Claudio. Dai che ti presenti. Perché? Magari disturbi. Eh, disturbiamo. Ma che disturbi? Vieni. Ma dai. Ma dottora, dice che... E mia moglie, la conosco, no? Dai. Tranquillo, vieni, vieni. Che ti avevo detto? Che Luisa adora gli uomini alti. E quindi? E chi ne è rimasto a scopare anche Claudio? Cioè, scopreranno in tre. In tre, infatti. Ma che carini. È così. Senti, che mi offri? Ti offro un caffettino. Caffettino. Un caffettino, dai. Chiamo il bar. No, se devi chiamare il bar, no, dai, Lili è uguale. No, non chiamo il bar perché fa un caffè buonissimo, se invece lo sai, io sono negato. Eh, mi ricordo. Pronto, Danilo, ciao, sono Lillo. Senti, sì, devo ordinarti dei caffè, il momento che mi informo quanti e soprattutto quali. Allora, io lo prendo normale. Normale, Claudio? Claudio, lo vuoi il caffè? Sì, grazie. Come lo prendi? Normale. Normale. Aspetta che sento anche l'itraulico, signora Stolfi. Signora Stolfi, lei lo prende il caffè? Sì. E come? Macchiato caldo. Macchiato caldo. Macchiato caldo. Ho capito, macchiato caldo. Allora, due normali. Quindi, c'è un macchiato caldo, un... Due normali. Due normali e un decaffinato. Va bene? Grazie, Danilo. Ciao, tra poco. Ciao, ciao. Allora. Fumma. Eccoci qua. Allora? Allraggio alla miseria. Senti. Stai benissimo comunque. Che facciamo? Vogliamo facciare la scopadina? Aspettere il caffè. Dopo il caffè. Sì, aspettere il caffè. Eh, scusate, sì. Posso usare questo fristino? Lo ho trovato di là, sul comodo. Sì, sì, certo, certo. Sì. Cioè, non è che è un cimello, posso... Però stagli apposta. Luisa è una burcuna. Lo so. Ciao, amore. Ciao, domani. Ma insomma, tu lavori sempre al ministero? Al ministero? Ma no, ma sto bene. Cioè, vabbè, certo, non è proprio il massimo. Non è tutta vita, ecco. Eh. Però, però non mi lamento, dai. Scusate sempre. Eh, avete un preservativo? Ah, sì, ce l'ho io. Ce l'ho io, ce l'ho in borsa. Allora, eccoli qua. Ce n'ho soltanto due. Ti dispiace se uno lo tengo per me e Lillo, che dopo il caffè scopiamo? Sì, vabbè, lo faccio abbastanza. Lo tengo per noi, eh? Eh, lo so, lo so. Ah, ecco, è arrivato Danilo. Vai Danilo. Salve. Buonasera. Salve. Quattro caffè, allora il decaffeinato è questo qua. Perfetto, è quello normale per lei. È questo qua, questo qua, no? E gli altri tu li porti in camera da Luisa. Ah, di là? Sì, di là. Con permesso. Stavo scopando di là. Bene. Ok. Ecco. Senti solo il profumo. È vero, verissimo. Fantastico. È una miscela che è colundiana. Le portano a poca, non è che si trovi. Tu ormai sempre al bar. Ma sempre al bar. Sempre. Con permesso, dai, caffè a posto. A posto, sì. Ho spettato un attimo e ci ho fatto una scopatina volante. È fatto bene. Non ho potuto, purtroppo, intrattenermi perché c'ho il bar scoperto di sotto. Non ti sei neanche spogliato? No, no, non è stato possibile perché c'ho il bar scoperto sotto. Quindi io andrei e allora per i caffè segniamo un po'. Segniamo, come al solito. Ciao Danilo. Grazie. Grazie. Comunque, come casa... Sempre io. La cucina è di là. Dicevo, come casa, come struttura va bene. No, dico, carina è... Ma niente, non c'è. Eh no, finito. Finito. Mi volevamo far spenellare. Rapportate. Insomma, ti trovo veramente bene. Grazie. Stai pure. No, vabbè, sono stata... No, perché... Sono stata in paletta per un periodo anche perché mi scarica anche mentalmente. No, ma si vede, si vede, sei allenata. Cioè, ma poi sei sfresca. C'è un bel colore di barra. E invece tu... Ti fa il bel colore di pelle. Grazie. Ti ha ragione. Senti, la casa in campagna ce l'hai sempre? Sì, la casa in campagna ce l'ho, però la sto... Lo sto facendo ristrutturare. Quello che ci facevamo le orge. Eh, ti ricordi? Sì, sì. Ma si è rotto tutto, pavimento, letto. Vabbè, per forza di orge. Insomma. Ah, ecco qua. Già fatto? Sì. Sono appena scopato, però è venuto quasi subito. Ah, vabbè. Cioè, come sei venuto quasi subito? Eh, beh. Può capitare. Certo può capitare. Sì, può capitare, però non può capitare con le persone che presento io e mi fa delle figure terribili. Ma può capitare, cioè, è una cosa che capita. Non capita mai. Ma capita, capita quando ti va. Cioè, capita sempre ultimamente. No, ma scusa, ma non so, è mortificata di fronte a Lindo. Ci siamo appena conosciuti. Ma non è che ti voglio mortificare, ma ti sembra normale. Ti presento una persona, arriva e vieni subito. Ho capito, ma lui sei già più ritrovato. Giulia, ma che stai scherzando? Noi c'è solo Claudio, dai, va bene. No, a me, scusa, a me, a me, queste cose mi fanno incazzare. Eh, no, fai due fatiche, va bene. Eh, no, Claudio. No, questo no. Ma pretende di avere ragione? No, pretende di avere ragione. No, allora ho tolto. Ragazzi, no, no. No, vieni subito, c'hai ragione. Ma è quando capita? È capitato oggi? Quando capita? Una volta può capitare. Non è possibile. Comunque ha goduto, diglielo un po', vai gliela a chiedere. Ma non mi frega niente, non glielo voglio chiedere. Ma tu ti rendi conto? Ragazzi, ci facciamo una scopata tutte e tre così ci calmiamo. Perché? No, allora sì. Non mi va, non mi va più, basta. No, io non capisco, cioè perché litigare? Ma perché litigare? Guarda, facciamo una cosa, andiamo Claudio, perché abbiamo rovinato tutto il pomeriggio di Lillo. Vai da sola. Io con te non ci vengo, vai da sola. Ma va io? Hai rovinato, hai rovinato la tronfera, vai via da sola. Bene, bene, allora vado in. No, ma mi spiace. Ciao Lillo, grazie. Ma non è già, Claudio, mi dispiace tanto. No, a me dispiace, a me dispiace. Dai, accomodo, ti siedi. A me dispiace, perché queste figure... Ma che le figo, dai, sai, sai. Non sto la figura, dai, figurati. Figura, figurati. No, perché non... Dai, calma, calma, sto calmo, dai. No, è che... Che non... Va bene, è tipico delle coppie. Mi dispiace, appunto, ci siamo appena conosciuti e... Ma non ti credere, pure io con Luisa, stessa cosa, le dichiamo spessissimo. È un po' di tempo che va avanti così. Le dichiamo un giorno sì e l'altro pure. Eh, è un periodo, è un periodo, magari passa. Dai, dai, calma, dai, muoio, muoio. Ti posso offrire qualcosa? No, no, grazie. Caffè? No, sto a posto. Una cosa fresca, un'aranciata, una birra, che dici? Un po' d'acqua anche. Non ti fa niente, proprio? Non vede, sto bene, sto bene. Senti, sei anche gay tu? Sì, ma sto bene, davvero. No, non fare complimenti, eh. No, dico, se vuoi, tranquillo, però. Non ti devi sentire obbligato, perché... Mi fa piacere, non lo direi, se no. Tranquillo. Non è pro forma? Non è pro forma, no. Allora, volentieri. Ciao, brozzo. Ciao. Come stai? Bene. Mmm, mi sembri un po' nervoso. Ma, un po'. E come mai? Beh, perché stamattina ho aperto la finestra e ho visto il mare. E beh, non è bello? Beh, no, la sera prima non c'era. Eh, brozzo, tu sei il ragazzo più divertente che io abbia mai incontrato. Scommetto che lo dici a tutti. No, io non vado in giro a dire a tutti che tu sei il ragazzo più divertente che io abbia mai incontrato. Allora, sei stato a scuola oggi? Purtroppo sì. Perché purtroppo non hai detto che ti piace andarci? Beh, mi piace andare a scuola, anche tornare. Non mi piace stare cinque ore lì. E la maestra cosa ti ha detto? Beh, la maestra ha detto che... E tu cosa le hai risposto? Ma quindi non avevi studiato, brozzo? Pronto? Ma come, hai detto che ti piace tanto studiare? Sto facendo le prove, sì. Non ti piace studiare la geografia? Capito. Hai detto che ti piacciono gli animali? L'appuntamento era le 7, no? Quali animali? Scusa un attimo. A me per esempio... Eh, era le 7 l'appuntamento. Sono 7 meno 20. Arrivo, sì, sì. Ok, mi preparo e arrivo, va bene. E insomma, Claudio, alla grande, alla grande. Il lavoro va a gonfie vele. Veramente, contratti su contratti, un periodo stupendo. La salute, voi. Mi sveglio la mattina pieno di energia, di forza, voglia di fare, che bello, guarda. Ma poi conti, tiziano, ci siamo innamorati di nuovo. Dopo tanti anni di crisi, eh? Adesso siamo due fidanzatini. Veramente un gran bel periodo. Bello, bello, bello. Io non ti vedo bene. Beh, a dirla tutta il lavoro non è che va proprio al massimo. Qualche problema ce l'ho. Però, vabbè, dai, la vita è così, insomma. Ma contento, ecco. Non ti vedo bene per niente. No. E no. Problemi seri. Cinque mesi che non chiudo un contratto. Questa è la verità. Non ho più, non ho più soldi. Sto andando avanti ai prestiti. Ma quanto può durare? Quanto può durare? Non ti vedo bene. Non mi vedi bene, no. Tiziana mi ha lasciato. Mi ha lasciato Claudio dopo cinque anni. Ha detto che sono un fallito. Sto da solo, sei andata, capito? Sto senza una lira, senza lavoro, senza una donna. Un periodo orrendo. Ecco che, che è, a dirla tutto. Eh sì, infatti. Io, io, tra l'altro sto male. Non dormo più la notte. Mi sveglio con l'ansia, con la... Respiro affannosamente il cuore, la techicardia. Non ti dico, guarda, non so, quattro giorni che non chiudo occhio. Sto tutto gonfio. Non mi posso guardare allo specchio. Sono una persona orrendo, mi vedo orrendo. Io sto male, sto male. Anche adesso, vedi, non respiro. Non respiro, Claudio. Oddio, posso andare in cucina a prendere un po' d'acqua, per favore? Sì, sì. Non respiro, non respiro, vedi? Eh sì, pronto. Buonasera, sono Claudio Gregori. Ottica Ficini, sì. Sì, ecco. E sono venuto questa mattina a ritirare un paio di occhiali da vista e per... Sì, esatto, sono io. Ecco. E no, eh non lo so, non vanno bene, no? Eh perché non vedo bene per niente io. Io adesso sono a casa con un mio amico che è seduto proprio vicino a me e io non lo vedo bene per niente. Vedo tutto... Lo vedo sfocato, lo vedo appannato. I contorni sono appannati, ecco. Non so adesso il problema qual è, i punti focali, non me ne intendo, però... Sì, io ho ancora il vecchio paio d'occhiali, sì. Eh, infatti sì, indosso quelli e poi domani mattina io passerei a riportarveli così... Eh, va bene. D'accordo, la ringrazio molto. Ok, a domani. Salve. Eh, ecco, vedi, sì. Ecco, ecco qua. Oh, ora ti vedo bene. Vedi, vedi? È che ho bisogno di sfogarmi, dovevo sfogarmi. Uno cerca sempre di tenersi tutto dentro, di non far vedere agli altri che stai male, invece a un amico bisogna dirlo. Sto male, ah, sto male, mi sono liberato, sto... Certo, non benissimo, eh. Vabbè, a me ci vuole anche un po' di tempo. Salve, sono il dottore Croidi. Salve, dottore. Su marito? È di là. Venga, l'accompagno. Venga, dottore. Salve. Che cos'è esattamente? Eh, niente, da stamattina non si sente bene. Eh sì, fino a mattina è ok. Un po' da guardare un po', ho cominciato di questi sintomi. Vedi, non si sente bene per niente. Ecco, adesso non si sente più. Ah, bello! Che te vuoi divertire un paio d'ore? Veramente divertente. Pensi che me l'ha consigliata una prostituta? Troppo forte. Ugo! Ciao, Raimondo. Come stai? Ma che fai da queste parti? E niente, sai, niente, è passato appunto da queste parti e ho pensato quasi quasi vado a vedere che combina Raimondo e quindi è... È tantissimo che non c'è via. Eh beh, quasi due anni credo. Entra, entra, è comodo. Grazie. Vuoi lasciare, toglierti i pantaloni e lasciarli fuori? Come scusa? Dico, vuoi toglierti i pantaloni e lasciarli fuori? I pantaloni? Eh, li tieni indosso? Eh sì. Niente, io il lavoro è finito. Mi ripasto domani per contare l'antenna allora. Ah, va bene, grazie. Arrivederci. Salve, eh? Salve. Ma è comodo, ti vieni? Sì. Vieni, vieni. Ma scusa, lo dicevo, l'operario, il tecnico lì... Tecnico TV. Eh, stava in mutande. Tecnico TV. Dico, stava in mutande. Ripara il televisore? Sì, ha lasciato fuori i pantaloni. Vieni, è comodo. Sì. Eccoci qui in casa. Ecco qua. Sì, dove vuoi, è comodo dove vuoi. Ok. Ecco qui. Accomodati. Silti. Lì? Eh. Cioè, mi sento lì? Sì. O preferisci la sedia? La sedia. Ah, la sedia. Sì, sì, la sedia. Non sei l'unico, è anche altri. Ah, anche altri. E insomma. Senti, ma come mai hai piazzata questa sedia qui al centro della stanza? Soprattutto perché è tutto abbassato, le serrande abbassate. Serrande abbassate. Sono fuori giorno. Eh sì, fuori giorno, invece le serrande abbassate. Eh, dico, come mai visto che... Invece le serrande sono abbassate. Eh, ma come... Uh, vuoi qualcosa da bere? Non ti ho offerto ancora nulla. Grazie, grazie. Sì. Tieni. Bevo... Sì. Bevo... Che c'è dentro? Acqua. L'acqua dei fiori? Sì. No, 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 ma io non intendevo acco, non ho sete. Quando ho detto di sì, quando mi hai chiesto se volevo qualcosa da bere, ho detto sì perché immaginavo che mi offrissi qualcosa tipo alcol. Ah, alcol. Eccolo. No, fa niente, non fa niente, è bene così. Bene così, sicuro? Sì, sì. E insomma, due anni. Due anni che non ci si vede. Due anni. Due anni che non ci vediamo, incredibile. Io qui ho cambiato tutto, hai visto? Bello. Ti piace? Bello, mi piace molto. Davvero? Sì, sì. Ah, sono contento. La redata con gusto. Sì, ho messo un po' forse troppi oggetti. No, no, però sono belli, molto bella quella cornice. La dovevi bella? Eh sì, d'argento, no? Sì, tieni, è tua. Tieni. Va bene, non fa niente. Tieni, la regalo, no, no, ci tengo. No, ma non serve. La dove è bella? È tua. Sì. Dai, è tua, tua. Va bene, grazie allora. Grazie. Va bene, allora la poggio lì così dola. No, 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 è tua, è proprio tua, tua. Sì, dico, la prendo dopo, la poggio lì. No, 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 è proprio tua, tua, tieni. Mia. D'altra parte poi è l'unica cosa che ti piace qui dentro. Ma l'è vero che l'unica cosa che mi piace qui dentro? Tante cose che mi piacciono? Ma sì. Davvero? Ma sì, certo. E che altro ti piace? Che no, tante cose, no, il candelabro. Il candelabro? Ti piace? Tieni, è tuo. No, non fa niente. No, no, ci tengo, ci tengo. No, veramente, credi? Ti piace? È molto bello. È tuo. Ma posso poggiarlo lì e magari lo prendo dopo? No, 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 tieni, è tuo, è mio. Proprio tuo, tuo, tuo. È mio proprio. D'altra parte sono le uniche cose che ti piacciono qui dentro? Eh sì, proprio le uniche. Purtroppo il resto mi fa schifo, è proprio brutto brutto. Davvero? Eh, lo so. Dici sul serio? Eh sì, è brutto proprio tutto, non mi piace niente. Non ti piace null'altro? No, no, mi dispiace. Niente di... Niente di quella pianta. No, ma poi quella è orribile, quella proprio è orribile. Non la metterei mai a casa mia una pianta così, oh. La trovi brutta? È bruttissima, mi dispiace, ma quella è proprio... La trovi brutta? La trovi brutta? No. Oh. La trovi brutta? Oh. Ma che ci fai con questa roba in mano? Con questa? Me l'hai regalata tu? Eh, te l'ho regalata. Che vuole che me la riprenda? No, vabbè. Te l'ho regalata ormai è tua, scusa un po'. Non stai scomodo. Quello che dicevo pure prima. Era che sei strano. Ma sei sempre stato un po' bislacco tu? Infatti. Sei sempre stato un po' così, mi ricordo anche... Che? Che cos'è quell'espressione? Che espressione è? Eh, non mi inganni. Che c'è? Non mi nascondi nulla. Cosa ti devo... Eh? Perché? Che c'ho? Eh, sì, sì, sì. Tu vorresti nascondermi un segreto. Tu mi nascondi un segreto. Ma che ti nascondono? Tu mi nascondi un segreto. Ma io ti ho capito. Chi si reggo attraverso? Tu fai l'amore con le pecore, eh? Ma che dici? Dovinato? Ma che indovinato? Ma che stai dicendo? A me non la fai, eh. Io ti reggo dentro. Pecore o capre? Ma nessuna delle due. Pecore o capre. Ma cosa dici? Ma che cosa... Oh. Che? Mi stavo dimenticando, scusa. Oh, scusa, mi prendi. Prendi. Prendine una. Sono buone. Sono carte? Sì. Prendine una. Prendi una carta. Prendi. Prendi. Tu la tienila. La devo guardare? Che devo... Sì. E che faccio? Tua, tua. Ah, è mia? Sì. Ah, me l'ha regalata pure qui. Metto in testa. Non si rivedrà più. Quanto è che non ci vediamo? Dico due anni, sì. Due anni che non ci vediamo. Due anni? Dal giugno del mio compleanno. Dal giugno del tuo compleanno? 27 agosto, sì. Mi ricordo benissimo. Ti ricordo delle mele, sì, sì. No, ma... Eh, sì, sì. Che cosa hai fatto in questi due anni? Racconta. Tante cose. Racconta, racconta. Vabbè, mi sono fidanzato. Poi ho cambiato lavoro. Ah, oh. 28 agosto ti sei fidanzato e hai cambiato lavoro. Ma che 28 agosto? Dico, in questi due anni mi sono fidanzato. Sì, ma ci andiamo con ordine. 27 agosto ci siamo visti. 28 agosto cosa hai fatto? Non me lo ricordo. 29? Nemmeno. 30 agosto? Non so. 31? 2 settembre? Nemmeno. 3 settembre? Non mi ricordo. 4 settembre? Ti giuro, provo. 5 settembre? 6 settembre? 7 settembre? 8? Che? Ma che cos'hai lì? Dove? Qui. Che cos'hai? Eh, è la carta... Ma cosa ci fai? L'otto di fiori. Eh, l'otto di fiori, ma? È la carta che ho preso prima. Ma che cosa? Ripunila presto. Ripunila qui. Ma me l'hai data tu? Ripunila? No. Come ho fatto a non pensarci prima? Tu sei l'eletto. Che so io? L'eletto. Presto, presto, inginocchiati. Inginocchiati. Che... L'iniziazione. Che? Alza, alzala. Alzalo l'otto di fiori. Ecco, tienilo con i pollici, alzalo. Ecco, così. Ripeti con me. L'inizio con i pollici, alzalo. E' una cosa che cazzo. L'otto di fiori. Calabos. Mi direi che ho l'otto di fiori, buco cazzo. Ecco. Ora sei l'eletto. L'otto di fiori. Custodiscilo. Ripunilo. Lo ripunilo. Qui. Adesso. Cosa? Procediamo con l'evirazione. L'evirazione? Ma che evirazione che è? Devi essere purificato completamente. E meccolo mi fai l'evirazione? Sì, perché così sarei fedele all'otto di fiori. No, 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 sto bene così io. Non lascia stare. Devi essere fedele all'otto di fiori. Eh, ma io sono fedele uguale. Non è... Pulito. Purificato. Ti dico che so... Ecco, hai ragione. Hai ragione, guarda. Le manizzozze. C'ho le manizzozze luride. Guarda, le devo lavare. Sennò come faccio a purificarmi? Sì. Quelle manizzozze. Lavale. Vado a lavare al bagno. E poi dopo ti eviro. Poi mi eviri. Lava dal bagno. Sì. Lavo le mani, torno e mi eviri. E ti eviro. Va bene, vado. Vai al bagno, eletto. Plotto di fiori. La vaffanculo, va. Ma è l'eletto. È l'eletto. È l'eletto. È l'eletto. È l'eletto. È l'eletto. 2 1 b prima tanta voglia di fare ma poi il rapporto con tiziana non ti dico ora da erico arriva arriva foto 2 di seconda Non l'avete battuto con Chuck? Motore partito, Chuck. 9-2 prima. Azione. No, perché ti ride tutti, io, ma ride proprio. I'm waiting. 10-1-A prima. 1-2-2-C seconda. Buona. Ciao, sì, Danilo, sono Lillo. Senti, ci porti 4 caffè? Non lo so, io lo prendo normale. Claudio, lo prende? Claudio, tu lo prendi il caffè? Sì, sì. Come lo vuoi? Normale. Normale. Senti, sentiamo l'idraulico pure. Signora Stolfi, lo prende il caffè? Signora Stolfi? Sì, ma macchiato caldo. Macchiato caldo. Scusate. Ma c'è? Macchiato caldo. Signora Stolfi, lo prende? Signora Stolfi? Sì, macchiato caldo. Allora, sono... Macchiato caldo. Affanculo. Pronto Danilo? Ciao, sono Lillo. Senti, aspetta, scusa, dei caffè, però adesso ti dico meglio. Io ho normale. Normale? Claudio, lo prende? Claudio, lo vuoi il caffè? Sì. Come? Normale. Normale, quindi... Due normali. Aspetta, aspetta. Mamma godina. Vaffanculo. Vaffanculo. Grazie a tutti.